La lettera luterana di Pierpaolo Pasolini avviura alla trilogia della vita. Il 15 giugno 1975, quattro mesi prima di morire, Pierpaolo Pasolini in lettere luterane, tra le altre cose scrive la Biura alla trilogia della vita, rappresentata attraverso i suoi tre film, Il De Cameron, i racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte, dove esprimeva l'innocenza e la purezza della fisicità e del sesso. Il poeta aggiunge alla Biura il suo pensiero sul sottoporretariato per il quale tanto scrisse negli anni 50 e 60, portandolo nel 1975 anche a girare il suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, dove descrive lo straccio dei corpi ormai divenuti emersi e sottomessi al potere di ogni epoca. Grazie. Grazie. Grazie.